Meraviglioso, meraviglioso, è veramente meraviglioso fare il DJ, fare il conduttore radiofonico, devo essere sincero, anche se questo lavoro presenta anche degli svantaggi, perché certe volte ti fanno, ti fermano per strada, ti fanno delle domande strane, ti dicono ad esempio ma ti pagano il radio, ti fanno domande del tipo mi registri un cd, sono alcune cose incresciose che accadono a chi fa il radio, ma chi fa il DJ comunque in Calabria ha sicuramente delle difficoltà. Sergio, visto che tu sei un DJ, oltre a essere un presentatore televisivo, quali sono le difficoltà che incontra un DJ nella nostra terra di Calabria? Allora, se posso dire la mia, io ti racconterei più o meno quali sono i difetti di questo settore, perché essendoci dentro dal 92 posso dirti, posso magari far capire agli altri come si è evoluto o involuto questo settore, perché in realtà si è involuto anziché evolversi. Il problema del DJ prevalentemente oggi è il fatto che comunque non si guarda più la qualità del DJ che emette i dischi, cioè una volta per suonare nei locali o comunque per fare anche dei compleanni, delle feste private voglio dire, dovevi avere una certa qualità, saper scegliere i dischi, avere una tecnica di missaggio, eccetera eccetera. Purtroppo nell'ultimo periodo questo non avviene più, perché i gestori dei locali e comunque la massa non dà più retta diciamo a queste cose. Tanto è vero che ci sono moltissimi e moltissimi pseudo DJs che lavorano nei locali soltanto perché sono diventati dei PR DJs. Ecco, in realtà cosa fanno? Non hanno nessuna tecnica di missaggio, non hanno nessun occhio sulla pista e nessuna gestione della serata, ma riescono a lavorare nei locali esclusivamente perché hanno un traino di 30, 40, 50 persone che loro si portano dietro. Ovviamente queste 50 persone tradotte in guadagno per il gestore del locale sono dei numeri e quindi il gestore del locale decide di far lavorare questo piuttosto che l'altro perché comunque questo DJ sa 50 persone che porta e pagano e bevono e consumano, mentre l'altro anche se qualitativamente è superiore non ha la possibilità di lavorare perché non ha un seguito. Ecco, per riassumerla proprio breve 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 è così, purtroppo il settore si è rovinato. Si è rovinato ma tu pensi che il DJ in un territorio di Calabria possa essere un lavoro serio, può essere fatto come lavoro serio oppure io intendo con professionalità in una certa maniera? Allora guarda parli con una persona che comunque l'ha fatto per 18 anni come lavoro, quindi... Ma non in Calabria? Anche fuori ma prevalentemente in Calabria, ti posso dire che sono riuscito a vivere. Ecco, magari non puoi straguadagnare, se pensi di guadagnare 6.000-7.000 euro al mese allora non fare questo mestiere, questo mestiere è un qualcosa che deve partire prima di tutto dalla passione che si ha per la musica e per la scelta musicale e per far divertire gli altri, questo è il fulcro del discorso diciamo. Quindi sì, puoi vivere facendo il DJ, ovviamente non ti aspettare la pensione o comunque non ti aspettare di poter vivere in maniera agiata ecco. E volevo chiederti un'altra cosa, mi viene così spontaneo dirti, se un ragazzo, un giovane vuole iniziare a fare il DJ, come si deve muovere? Beh, io ti posso dire come ho iniziato io, io ho iniziato semplicemente portando le valigette ai colleghi più grandi. Quindi bisogna andare con qualcuno a fare la gavetta, fare la gavetta, quindi avere la fortuna di... No, anche se oggi, ti chiedo scusa se ti interrompo, anche se oggi purtroppo devo dire, questo non è più necessario perché come ho già detto poco fa, basta semplicemente avere 40-50 amici che ti seguono, andare a proporti in un locale garantendo un riscontro numerico di seguito, diciamo, e tu tranquillamente, anche se non hai nessuna tecnica di missaggio, puoi andare a lavorare nei locali. Purtroppo questo è quello che avviene, cioè la professionalità ha lasciato il posto all'opportunismo, all'arrivismo e come sempre a fattori economici. Sono le 8.50 minuti primi qua su Radio Cadanzaro Centro, siamo arrivati proprio in addirittura d'arrivo. Questo odierno appuntamento con saluti e baci è arrivato alla conclusione. Io vorrei anche salutare questo compagno di viaggio che abbiamo avuto con noi nello studio che è Sergio Scicchitano. Grazie a te per avermi ospitato e grazie a tutti i radioascoltatori di Radio Cadanzaro Centro. Un'ultima cosa che volevo dirti, c'è qualcosa che non abbiamo detto e che avresti voluto dire nel corso del programma, hai qualche istante di tempo a disposizione. Guarda, se dovessi dirti tutto quello che penso dell'ambiente, di tutto quello che ruota intorno a me, tra virgolette, ci vorrebbero 10 puntate di saluti e baci per esporlo al meglio, diciamo. Va bene, allora l'appuntamento comunque con i radioascoltatori è fissato a domenica alle 20. Domenica ore 20, Telespazio TV per la penultima puntata di Live Music. Poi avremo l'ultima puntata domenica 27 giugno con un gruppo molto 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 rinomato di cui non dico il nome per scaramanzia, ecco. Va bene, allora ci vediamo domenica sera. Io concludo questo programma, siamo arrivati davvero al termine. Ringrazio anche Paolo Moreno che è stato dall'altra parte in sala regia, Belen che ci ha tenuto in compagnia. Complimenti a Belen, è una bella donna. Complimenti anche a Belen e vi lascio con il parto delle nuvole pesanti. Va bene? Ok? Ciao Luigi, grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao.